ciao a tutti e con estrema piacere che vi invitiamo all'evento del 21 ottobre che si terrà le 15 e 30 abbiamo voluto organizzare un evento un po particolare che unisca il mondo fisico e il mondo del digitale piuttosto che fare il solito evento dove si presenta davanti a uno schermo abbiamo pensato di realizzare un evento che fosse più interattivo infatti i rappresentatori saranno fisicamente presso lo studio feed a milano e avranno la possibilità di presentare e di avere quell'effetto un po televisivo quindi come se stesse davanti a un vero e proprio programma il più interattivo possibile cercheremo di facilitare l'interazione con le persone che saranno da casa vi racconteremo tantissime novità il mondo è cambiato il modo di fare business è cambiato vi racconteremo tante nuove soluzioni anche tante nuove opportunità una fra tutte per esempio è quella dettata dal recovery fund e dai fondi che saranno quindi disponibili per la digitalizzazione delle imprese poi avremo come moderatore lorenzo betti ceo di soil che ci accompagnerà durante tutto il pomeriggio e non solo poi farà proprio una presentazione sulla vision verso il futuro di questo momento molto particolare post pandemico diciamo avremo poi due tavole rotonde una sulla sicurezza una sulla digital transformation e molte molte presentazioni su varie tematiche vari trend estremamente attuali come il 5g per esempio piuttosto che 60 ghz per la video sorveglianza il wifi 6 in chiave di sviluppo wireless verso il futuro sui mercati verticali l'hospitality l'education il retail e l'enterprise quindi vi aspettiamo il giorno 21 alle 15 e 30 mi raccomando collegatevi a presto a presto